ciao a tutti oggi nel video di oggi andremo a vedere in modo specifico e dettagliato come realizzare le asole verticali di due tipi uno piccolo e uno grande e le andremo a realizzare sulla mezza costa come qui nei nostri esempi sulla mezza costa perché la mezza costa ci permette realizzare un bordo stabile che non si allunga e di una bella presenza che ci permette anche creare delle asole verticali in modo diciamo molto curato e anche quasi invisibile non si mette in evidenza esagerata appunto il forellino ma sembra una continuazione del motivo andremo a vedere due esempi ma prima di vedere gli esempi della creazione del forellino vero e proprio andiamo a fare un ripasso sulla realizzazione e creazione della mezza costa partiamo dall'avvio delle malie e andiamo a avviare 13 malie con avvio alla nordica noi abbiamo scelto 13 mali per far vedere sul campione perché anche il progetto che stiamo realizzando è di 13 mali quindi per essere più chiari per riferimento futuro del progetto futuro che uscirà ma si può andare anche e fare un bordo più piccolo ad esempio con 7 9 mali ora vediamo con 13 quindi avviamo le nostre 13 mali con avvio alla nordica ed ecco qui abbiamo avviato le nostre mali quando noi facciamo avvio alla nordica quando giriamo siamo pronti per partire con la lavorazione abbiamo il rovescio del nostro ferro quindi dobbiamo andare lavorare il rovescio del nostro motivo mezza costa quindi andremo a fare la nostra semplice costa uno per uno la maglia di vivagno la spostiamo la prima maglia la lavoriamo a rovescio dopo andiamo alternare una a rovescio con una a diritto importante che la maglia subito dopo la maglia di vivagno va lavorata a rovescio e questo ferro di rovescio di ritorno della mezza costa ecco qui anche la nostra penultima maglia quella prima della maglia di vivagno va lavorata a rovescio anche la nostra maglia di vivagno noi la lavoriamo a rovescio ma voi fate finta che qui dobbiamo andare procedere con il nostro progetto noi qui ci soffermiamo solo sul bordo ma voi dovrete andare lavorare anche le maglie del progetto quindi facciamo a rovescio e anche la nostra maglia di vivagno noi la facciamo a rovescio e questo è il nostro primo ferro che però l'abbiamo applicato con il rovescio perché come ricordiamo ogni avio dà anche l'indicazione spesso dà anche l'indicazione su come andare a lavorare che ferro si rappresenta subito dopo la maglia il ferro di andata siamo sul diritto di lavoro fa questa particolare lavorazione la maglia che si presenta a diritto va spostata mantenendo il filo da di dietro poi la maglia che si presenta a rovescio va lavorato a rovescio normale quindi la maglia che si presenta a diritto va spostata con il mantenimento del filo da dietro quella di rovescio va lavorato a rovescio normale e questo il ferro di andata il ferro diritto della nostra mezza ed ecco qui abbiamo visto il ferro di andata e ferro di ritorno solo che le abbiamo fatto nell'ordine contrario ora dobbiamo andare lavorare l'altezza desiderata tra un bottone e l'altro con mantenimento di questa mezza costa dopo che abbiamo raggiunto la lunghezza desiderata andiamo a realizzare dei forellini e noi prendiamo già i campioncini pronti e andiamo prima con il campione in cui andiamo a vedere come realizzare il forellino invisibile un forellino medio piccolo dal quale passa appunto un bottoncino come nel nostro esempio e per farlo noi dobbiamo andare lavorare le prime sei maglie della nostra mezza costa noi siamo sul diritto del lavoro quindi andiamo a spostare la maglia a diritto la maglia a rovescio a lavorare ecco qui abbiamo fatto i nostri sei maglie prime sei maglie ora prima di procedere con la seconda parte delle maglie noi dobbiamo andare a realizzare un progettato in questo modo subito dopo successive due maglie li dobbiamo andare unire insieme quindi fare una diminuzione entriamo da davanti in questo modo e andiamo ricavare da due maglie una maglia facendo così abbiamo fatto un forellino una diminuzione perciò manteniamo anche il numero delle maglie concludiamo il nostro ferro di andata ora il nostro ferro di ritorno ci ricordiamo che il ferro di ritorno va lavorato con la lavorazione della costa semplice quindi uno rovescio uno diritto e così lavoriamo tutte le maglie mantenendo l'ordine del rovescio diritto arriviamo al punto in cui abbiamo fatto il nostro gettato si presenta a diritto e lo andiamo lavorare a diritto semplice per mettere in evidenza appunto il forellino e dopo di che concludiamo il nostro ferro ed ecco che abbiamo visto come realizzare questo forellino invisibile semplicissimo da fare questo diciamo è una lavorazione che possiamo andare applicare anche quando non siamo sicuri se vorremmo poi in un secondo momento mettere bottoncini o no perché facendolo su questa mezza costa è praticamente invisibile ora vediamo come invece realizzare dei forellini più grandi la base della realizzazione dei forellini più grandi che quello che vedremo poi può essere applicato anche per le misure più ampie guardate che bella definizione senza dei passaggi visibili e anche qui noi partiamo con la lavorazione di prime sei maglie andiamo quindi lavorare le prime sei maglie essendo a diritto di lavoro la maglia diritto si sposta la maglia a rovescio si lavora noi qui dobbiamo andare a lavorare prima le sei maglie poi le sei per creare anche l'asolina e per riuscire a lavorare separatamente senza dover aggiungere altri gomitoli senza dover andare aggiungere altri feri facciamo semplicemente questo giro giriamo e andiamo lavorare il ferro di ritorno delle sei maglie appena lavorate con il mantenimento della semplice costa uno per uno perché siamo sul ferro di torniamo a rifare anche in questo terzo ferro le nostre prime sei maglie sempre mantenendo la lavorazione ecco qui noi abbiamo fatto i nostri feri però il forellino ancora piccolo quindi procediamo perciò andiamo di nuovo girare facciamo il nostro quarto ferro che il ferro di ritorno ecco qui sta già prendendo bene la forma e stiamo raggiungendo la grandezza desiderata dell'asola andiamo lavorare le nostre prime sei maglie mantenendo la lavorazione della mezza costa in quanto siamo sul ferro di andata dopo questo ferro abbiamo raggiunto la grandezza desiderata della nostra asolina se voi volete l'asola più grande perché avete un bottoncino più grande dovete andare a fare altri giri come abbiamo fatto noi ma noi abbiamo fatto i nostri tre giri con questi tre giri abbiamo raggiunto la larghezza dell'asola desiderata perciò ora noi dobbiamo andare realizzare dei gettati dello stesso numero dei giri che abbiamo fatto quindi andiamo a fare tre gettati in questo modo uno due e tre se dovete fare più giri andrete a fare più gettati ora andiamo procedendo la lavorazione concludendo il nostro bordo quindi andiamo riprendere i nostri sette maglie rimanenti essendo sul diritto di lavoro andiamo la maglia a diritto spostare la maglia a rovescio lavorare ed ecco qui giriamo e siamo sul rovescio del nostro lavoro e vediamo questa differenza tra un lato e l'altro dobbiamo andare a recuperare la differenza quindi andiamo con il nostro ferro di ritorno della seconda parte delle maglie del bordo quindi andiamo a fare una semplice diritto di rovescio qui abbiamo l'ultima maglia la settima più il primo gettato in totale ne abbiamo tre gettati noi dobbiamo andare a fare una diminuzione per fare la diminuzione innanzitutto noi andiamo a drizzare mettere in modo diritto la maglia e andiamo a fare una diminuzione entriamo da di dietro in questo modo e da due ne andiamo ricavare una in questa diminuzione abbiamo convolto una maglia e un gettato una volta che abbiamo fatto la nostra diminuzione ci sono ancora i centimetri da recuperare i feri da recuperare andiamo fare di nuovo il ferro di andata però sempre con la una parte delle maglie essendo sul ferro di andata andremo di nuovo la maglia a diritto spostare e rovescio lavorare ecco qui abbiamo fatto poi ovviamente voi qui andrete a lavorare con il vostro motivo noi qui ci soffermiamo e giriamo subito perché stiamo vedendo solo il bordo ma quando avete il motivo dovete andare a lavorare il motivo del vostro progetto e poi i feri di ritorno ora noi siamo di nuovo sul rovescio del lavoro e anche qui andiamo a lavorare la semplice costa uno per uno delle prime maglie siamo arrivati che ci manca ultima maglia e una secondo rovescio e anche qui noi dobbiamo andare fare la diminuzione entriamo dentro le due asole quindi della maglia e del del gettato e creiamo una maglia solo quindi abbiamo recuperato fatto un'altra diminuzione ci manca ancora un gettato concludiamo il nostro ferro giriamo facciamo un altro ferro di andata poi di nuovo siamo di nuovo sul ferro di ritorno ultimo perché dobbiamo andare a recuperare diminuire ultimo gettato per arrivare all'altezza uguale del primo sei maglie anche qui il ferro di ritorno facciamo con costo uno per uno classica ed ecco guardate ultima maglia ultimo gettato la stessa identica cosa delle prime due gettati andiamo fare la diminuzione ed ecco qui una volta che abbiamo diminuito aggiunto la lunghezza desiderata andiamo concludere il ferro coinvolgendo le ultime maglie quindi concludiamo il ferro e questo è il sesto ferro per tutto il bordo guardate che meraviglia abbiamo fatto un forelino perfetto senza macchiature senza il passaggio è veramente un ha un effetto visivo molto gradevole facilissimo da realizzare speriamo che siamo riusciti a spiegarvi bene questo passaggio che questo video sia stato utile ovviamente se voi desiderate potete andare fare la lunghezza più grande di questo forelino sempre mantenendo lo stesso la stessa lavorazione grazie che avete seguito questo tutorial speriamo che sia stato ovviamente chiaro e utile se non siete ancora iscritti al nostro canale iscrivetevi per non perdere tantissimi altre novità in arrivo in più non dimenticate attivare la campanella per ricevere tutte le notifiche quando escono dei nuovi tutorial vi aspettiamo anche su facebook dove abbiamo sia gruppo che la pagina dove potete venire condividere le vostre creazioni grazie a tutti e al prossimo tutorial